Simona ciao, guarda qui, ciao, cosa vuoi farmi vedere? Guarda, Spoletto ha messo il tuo selfie su Instagram, è in palestra, guarda che muscoli Luca e muscoli a me sembra un bel photoshop Ma vero? Chiedilo lui Ciao amici, il video di oggi è dedicato alle amiche e agli amici più sportivi che si impegnano per avere muscoli tonici e fisici scolpiti Beh, io vado in palestra ma di tonico c'è solo quello che bevo per riprendermi Capita a tanti, anche a me capitava finché non ho studiato i segreti degli atleti di successo vegani e di alcune star del cinema e della musica vegane Non riuscivo a spiegarmi come facessero ad avere fisici snelli e allo stesso tempo muscoli potenti E parlo di atleti di livello internazionale Così ho scoperto il metodo che usano per bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare Adesso ditemi, cosa fate di solito per aumentare la massa muscolare? Beh, mangio tanto e poi vado in palestra Esatto, ma poi cosa succede? Eh, che ingrasso e devo anche bruciare i grassi Infatti, e se ci fosse un metodo per aumentare la massa muscolare e bruciare i grassi nello stesso tempo? Io e Squaletto lo vorremmo sapere subito Se l'idea piace anche a voi, mettete un bel mi piace a questo video Tanti mi piace, tanti nuovi video Ecco il metodo E alla fine del video anche un bonus sul recupero dopo l'allenamento Il primo segreto sono gli antiossidanti Perché accelerano i tempi di recupero dopo il workout E permettono di allenarsi meglio e più spesso Un'alimentazione sportiva vegana fornisce molti antiossidanti Si trovano nella frutta, nella verdura cruda, nei superfood vegani Di cui ho parlato nei miei diversi video Vi trovate nella scheda cliccando la i qui in alto Sì, io li ho visti, la melagrana, le bacche di gogi, i semi Il secondo segreto è il post-workout Dopo l'allenamento, i cibi che apportano il giusto mix di vitamine, minerali, antiossidanti, proteine e carboidrati complessi Permettono di accorciare i tempi di recupero e massimizzano la crescita muscolare Il terzo segreto sono i cibi non processati Gli atleti vegani d'élite mangiano cibi freschi Frutta e verdura cruda, semi oleosi, frutta secca, cereali integrali, proteine vegetali Sono più facili da metabolizzare Hanno un apporto nutrizionale completo E sostengono la salute naturale del corpo Senza chimica aggiunta che impegna gli organi di depurazione Ricevuto! Il quarto segreto sono le calorie Da non contare Ah, questo è il mio segreto preferito Mangiare vegano e integrale al posto di cibi industriali Permette di essere flessibili rispetto ai regimi calorici atletici Che di solito sono molto rigidi Ho altri segreti per voi Ma prima, se non lo avete ancora fatto Iscrivetevi al canale È facile E attivate la campanella delle notifiche Quinto segreto Questo in particolare è per le amiche Grazie tesoro Niente diete punitive Molte atlete vegane raccomandano di mangiare sempre Fino a sentirsi sazi Chi deve dimagrire può seguire un regime completo Crudista per un certo periodo E vedrete che è fisico asciutto e tonico A proposito di alimentazione raw crudista In quest'altra scheda cliccabile dalla i qui in alto Vi lascio il link al mio libro vegan raw Dove trovate tutto sull'alimentazione crudista E tantissime ricette facili e buonissime E il bonus? Eccolo! Intanto vi ricordo di scrivermi nei commenti Le vostre esperienze con la dieta e lo sport Raccontatemi i successi e sfide Il bonus dicevo è questo Secondo i maggiori personal trainer ed esperti di fitness americani Il cibo è responsabile dell'80% del successo o del fallimento Per bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare Vuol dire che se seguite il giusto metodo Rimane solo il 20% del lavoro E qui amiche e amici bisogna allenarsi Non ci sono scuse Ma in questo modo qualche sgarro ogni tanto Non sarà una tragedia totale Ora condividete questi consigli con i vostri amici Fatevi vedere mentre mangiate sano In palestra dopo l'allenamento Ah mi raccomando Evitate il fai da te Seguite i miei video piuttosto O chiedetemi una consulenza Se volete essere trendy e sani Con Simona Vignali Naturalmente Io vi aspetto al prossimo video Ciao Perfetti Finito Bye